Probabilmente non ha importanza. Proviamo a fare un altro avvicinamento? Non so cosa sono. È andato? È dietro al trattore. Il conosco ce lo potrebbe dire. Si vedono perché sono un po' sul bianco. Alla sinistra del trattore. Vediamo come cosa. Alla regalita. È un po' sul bianco. 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 È un po'. È un po' sul bianco. È un po' sul baso. È un po' sul bianco. È un po' sul bianco. È un po' sul bianco provolto. Accessión alla Biblioteca. È un po' sul bianco. non ho mai usato io l'ho mai usato una volta no ma io ho 10 digitati questo è il digitare meno attenziale mi stai adeguendo? non fa niente non ho mai usato non ho mai usato è una fotografia è una fotografia